ciao a tutti nesini siamo qui con un nuovo video guardate quante cose abbiamo da aprire oggi allora abbiamo una cosa pandora che ho acquistato io ma la vediamo alla fine poi abbiamo un ovetto delle lol surprise non ne avevo trovati prima quindi ne ho preso uno non so se è la versione con dentro una un pupazzetto della lol oppure se è quello con le mollette per capelli quindi dopo andremo a cioè ora andremo ad aprirlo poi ho trovato la e questo mi pare costasse un euro un euro e cinquanta poi abbiamo questo qua dei pick me pops surprise serie 2 che le aspettavo un sacco e quindi niente ne ho preso uno e abbiamo questi qua questo sarebbe il mio preferito però non so quale troverò sinceramente provato da non usare ma non so esattamente di che sappia forse di anguria non lo so e poi ho trovato in edicola questa blind bag di fortnite l'ho presa per il mio cuginetto però ovviamente la apriamo insieme e cercherò di non rovinare eccessivamente la bustina però vediamo com'è perché sono molto curiosa abbiamo soltanto un'immagine di fortnite qui davanti e basta pure dietro uguale c'è ci sono altri personaggi però e non c'è scritto altro quindi non so se è una fregatura tipo un fake oppure no comunque è fatta così io non conosco minimamente i vari personaggi o le vari skin o quello che è perché io non gioco a fortnite anche se il mio cuginetto vuole che io inizi a giocare a fortnite quindi vedremo perché giocavamo insieme a minecraft gliel'ho fatto conoscere io minecraft quindi diciamo che è grazie a me che è entrato nel mondo dei videogiochi di quel tipo e poi ora è passato a fortnite come tutti i bambini di adesso che è il gioco dell'anno se non sbaglio fortnite quindi e niente insomma ho iniziato a pensare di poter giocare anche se a me non piace molto fortnite però se vuole giocarci ci gioco insieme a lui insomma ecco e quindi l'ho presa più che altro per lui ecco però ora l'andremo a vedere tra poco iniziamo però prima dall'ovetto delle lol voglio vedere un attimo chi troviamo insomma allora abbiamo abbiamo lei c'erano vari tipi varie fantasie c'era anche diva e c'era anche mi sembra t-shirt pet però io ho preso lei così mi attirava di più il colore quindi andiamo a vedere e vediamo anche com'è il cioccolato di dolci preziosi qua c'è scritto che è della mga eccolo qua l'ovetto credo sia quello semplice diciamo cioccolato al latte eccolo qui pesante è pesante non so cosa ci sia dentro forse una pallina vediamo eh una gomma carina vediamo eh perché non le avevo mai viste le gomme oh carina abbiamo trovato fancy che va sulle matite non le avevo mai visti queste qua allora vediamo chi c'è gomme pen top sì infatti e è la prima serie credo sì ci sono tutte quelle della prima serie o quasi tutte abbiamo t-shirt pet mer baby va beh insomma tutte le prime serie eccole qua e carina abbiamo trovato fancy dietro non c'è niente eccola qua speravo in una figure mi sarebbe piaciuto vederle però anche queste mi piacciono sicuramente più delle mollette per capelli perché non le userei questa penso che la regalerò alla mia cuginetta così ho una cosa per lei una cosa per lui comunque eccola carina mi piace mi piace molto carina beh questa finirà la mia cuginetta quindi perfetto ora mettiamo da parte il cioccolato vorrei vedere un attimo con voi appunto la blind bag di fortnite dai andiamo a vedere subito questa togliamoci il dente perché non ho idea di cosa sia perché non è stata pubblicizzata quindi non so se è una cosa originale quindi andiamo vado ad aprirla senza rovinarla eccessivamente ok ci sono riuscita abbastanza quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro allora ci sono delle card dietro sono fatte così e davanti abbiamo questi qua non so chi personaggi siano quindi dite me lo nei commenti sicuramente sarete più esperti di me e sono queste tre tra queste tre questo mi piace di più penso anche questo è carino ok quindi abbiamo tre card e poi andiamo a vedere la figure oh mio dio cos'è cos'è questo mostro è orribile oh mio dio no vabbè cioè io penso sia un fake non ci credo e c'è anche un fucile oh mio dio cos'è oh mio dio cos'è c'è secondo me l'hanno tipo preso dalle cose tipo oddio cos'è in mano cos'è è una trappola credo sia una trappola per topi sulla mano mi sbaglio beh allora secondo me è un fake ditemi che ne penso guardate che brutti gli occhi vabbè comunque niente lo farò vedere vedere al mio cuginetto se proprio lo vuole glielo do però non lo so se gli piace comunque vabbè ditemi se per caso è un personaggio ma fatto veramente male di quelli di fortnite anche un buco qua dietro non so per cosa tipo per farsi sparare non lo so comunque ditemi se è uno dei personaggi che che è di fortnite ma ha fatto molto molto male oppure è un un tizio random che che ha un fucile non lo so ditemelo nei commenti ecco io sinceramente non so che dire cioè poi costano pure tanto quindi se è non le prendete in edicola mi raccomando questa mi pare costasse sui 5 euro tipo tantissimo cioè vabbè e niente lo farò vedere al mio cuginetto e poi vediamo che dice magari lui mi sa dire se è qualcuno oppure è un tizio random quindi questo è un fail totale prima di aprire i pick me pops vi faccio vedere velocemente cosa ho preso da pandora allora vediamo vediamo ecco qua allora abbiamo una bella bustina di pandora e abbiamo la garanzia tutto il resto eccolo qua e il sacchettino allora ho preso una cosa sola ed è un anello perché era del di un c'è un tipo di anello nuovo che non avevo mai visto tra l'altro bustina super carina tutta rosa dentro e l'ho pagato 29 è un anello molto molto strano perché è fatto tipo con una maglia morbida vedete c'è la targhetta qua con scritto pandora e di argento e qua davanti c'è aspettate che non metto a fuoco un cuore con una pietra c'era o bianca o rosa o celeste ma della mia misura c'è soltanto questa quindi ora lo metto vi faccio vedere come mi sta eccolo qua è super carino fa un punto luce è molto bello poi ho anche una collana fatta con un diamantino così piccolo e niente mi piace moltissimo devo dire e niente è molto c'è come se non portaste niente al dito quindi è molto leggero non è ingombrante insomma però mi piace carino ditemi che ne pensate nei commenti poi vabbè di pandora tutto costa tanto quindi non mi stupisco ma questa era una delle cose che costava meno quindi però bello mi piace mi incuriosiva l'idea di avere tipo un braccialetto da dito molto carino ora passiamo ai pikmi pops questi pure li avevo presi al toys non mi ricordo se vi ho detto quanto l'ho pagati ma 12,90 a sconto se no costavano sui 17 tantissimo 17 comunque vediamo è la seconda serie quindi andiamo ad aprirlo se mi ricordo più come si fa ci risuono queste aperture con cui io trovo molta difficoltà perché mi si spezzano sempre quindi farò piano ok allora una è andata via e ora la seconda vedete mi si spezzano sempre ok allora anche in questa serie ci sono tipo nuvolette qua sotto disegnate sono uguali andiamo ad aprire qua ci sono più sorprese o diverse rispetto all'altra volta questo come al solito è un lecca lecca in cui potete tenerlo per mantenere la fragranza e l'odore insomma buono dei personaggi dunque andiamo a vedere questi mi sa che sono gli sticker questi sono per le unghie mamma mia che odore forte e qua c'è il charm io però voglio aprire prima loro ok uh ok carino il leoncino niente di particolarmente entusiasmante per me in realtà cioè non è che mi faccia impazzire più di tanto sembra un po' Simba quello sì l'odore è fortissimo non so di cos'è però e abbiamo un procione credo ok non mi fanno impazzire tantissimo devo dire non mi piacciono tantissimo cioè non so niente di particolare vedrò se posso scambiarli sinceramente non mi entusiasmano molto comunque qua abbiamo un charm che è un cagnolino e non è nessuno di loro due poi abbiamo questo che è un libricino perché ci sono due tipi di sorprese questo è un libricino con un pikmi pop poi abbiamo queste che sono quelle per le unghie aiuto ok eccole potete ecco sono sticker per unghie con cui potete decorarle ci sono vari tipi di sorprese mi pare anche portachiavi poteste trovare o cose del genere e infine abbiamo sticker letterine tutto il resto e la checklist allora gli sticker sono questi ah è all'ananas ecco cos'è ananas kiwi agrumi in generale sì ananas infatti non capivo che d'ore fosse però sì ora che che l'ho letto sì effettivamente fruit paradise ok un mix di frutti you read my mind ok come mi legge la mente sarebbe però scritto con rosso e poi c'è questo you are the main event ok e questi sono quindi rowey panda rosso sì giusto e chomp il leone sì carini ma niente di che allora ci sono quelli singoli che non ho preso ma c'erano e sono tutti questi qua carini sì questi sono quelli limited edition e poi quelli con due allora il mio preferito era questo questo qua o questa però visto che ha il caramello no questa il lama e sì sono carini niente di che pensavo meglio allora questo mi piace e poco più questi due basta questi tre al massimo invece dei rari sono tutti abbastanza carini tranne questo che non mi fa impazzire e ultra rari pure sono carini e questi sono i super set secondo serie così così dai poteva essere meglio questo spero di riuscire a scambiarlo se qualcuno lo scambia vediamo comunque tra questi due preferisco il panda rosso l'odore è buono però un po' forte e l'idea di più sorprese è carina mi piace che ne pensate? ditemi che ne pensate nei commenti la prima serie mi entusiasmava di più sinceramente c'erano più personaggi che mi piacevano e questo è quanto allora questo è tutto quello che abbiamo aperto oggi ditemi che ne pensate di questa di Fortnite perché è veramente strana come cosa penso sia un fake cioè sicuramente un fake e niente ditemi che ne pensate di tutto quanto noi ci vediamo in un prossimo video se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su iscrivetevi al canale partecipate ai miei giveaway e attivate la campanellina perché YouTube sta facendo schifo ultimamente non vi manda le notifiche quindi entrate sul mio canale ogni giorno o ogni un giorno sì un giorno no io posto video quindi mi raccomando restate sintonizzati vi mando un grosso bacione un salutone se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e ci vediamo presto ditemi tutto quello che pensate di tutte le cose che abbiamo aperto oggi ciao ciao